Adesso c'è la storia. Costruiamo tutti insieme l'aereo. Lo costruiamo tutto insieme perché è molto grande. Poi lo costruiamo all'aeroporto, poi ci sediamo sopra. Io sono lì davanti, faccio l'autista, accendo il motore e fare curve, 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 curve senza mai smettere. E poi a un certo punto dite ferma, c'è l'aeroporto di Giappone. Siamo in Giappone, siamo in Giappone! Poi vedi l'aeroporto e poi ti fermi lì, parcheggi l'aereo e prima vai a Tokyo a vedere i grattacieli. Basta, è finita la storia. È bella per loro!